Eccoci rientrati, di nuovo buongiorno, seconda parte di Mattino 6 che riprende con le pagine del messaggero. Possiamo andare a vedere, gran sasso e inquinamento imprudente. Ora il commissario per passare dalle parole ai fatti. L'assessore regionale non sottovaluta il rinvenimento di sostanze nelle acque. I dati sono rassicuranti ma non basta, è il momento della messa in sicurezza. Ho saputo solo ora della vicenda, il monitoraggio di Ruzzo e Laboratori non aveva segnalato nulla. E poi ancora per la politica, leggiamo in taglio alto, Italia Viva si organizza il 4 novembre a Chieti, il ministro Bellanova. Andiamo ora in taglio basso, piccole imprese, sempre più in crisi, una cabina di regia per il rilancio. L'organismo riunito ieri a Pescara per la prima volta, partecipano associazioni, sindacati e politici. Proseguiamo e siamo sulle pagine di Pescara. Il campus resti su Viale Pindaro, il centro-sinistra e PD fissano le richieste alla Giunta Masci per la condivisione del DUP. Altrimenti ne chiediamo il ritiro. L'Ateneo dovrebbe acquisire il parco di Cocco e anche la caserma dei Vigili del Fuoco, che non deve essere venduta da Sclocco e Cuzzi. Di apertura sull'ipotesi del trasferimento dell'università, ma solo nel PP2 e non nell'ex COFA. Poi ancora Di Pietantonio auspica uno sforzo per capire cosa realizzare nell'area a forte vocazione turistica. Vediamo il servizio del Tg6. Dopo quattro mesi di amministrazione Masci a Pescara, alla prima uscita di un documento così importante come il documento unico di programmazione, si evidenzia tutta l'approssimazione per lo sviluppo futuro e sostenibile della città. Inizia così la conferenza stampa di Moreno Di Pietrantonio, segretario cittadino del PD, pronto a lottare contro la proposta di cementificazione dell'area ex COFA, che andrebbe a precludere ulteriormente lo sviluppo turistico di quell'area. Si qualifica soprattutto per un elemento, per il trasferimento dell'università D'Annunzio da Viale Pindaro, dove è attualmente allocata ed è la sua sede ormai naturale, all'ex COFA, cioè quell'area che si trova davanti al Marina di Pescara, che ha una destinazione turistico-recittiva da sempre e quindi crediamo che ci sia bisogno di uno sforzo di idee in avanti per cercare di capire come realizzare lì un qualche cosa che sia a vantaggio di Pescara e anche di tutto l'Abruzzo. Da quello che noi leggiamo su questo documento, che tra l'altro è anche in parte un copia e incolla, è molto superficiale e non dà una linea di sviluppo della città. E quindi di farsi aiutare da tutta la politica, anche dall'opposizione, ma soprattutto andando fuori dal palazzo, e cioè dall'università, dalle associazioni di categoria, dalle associazioni culturali, dalle migliori energie attive e dalle migliori menti che abbiamo in città. In particolare vorrei dire anche che c'è un lavoro da fare per cercare di capire quale dovrà essere lo sviluppo della città, sia per quest'area ma anche per altre aree. In questo documento noi vediamo che non ci sono riferimenti precisi, per esempio per l'area di risulta, dove si balbetta e si rischia di perdere l'unica certezza che sono i 12 milioni stanziati dalla regione Abruzzo guidata da Luciano D'Alfonso, oppure l'altra area importante, in riva al mare, l'ex Enaipe, non si capisce ancora cosa vogliono fare. Quella è una cosa che non va fatta e noi faremo una petizione in città contro la cementificazione dell'ex Cofra. Ci sembra di rivivere l'impostazione della passata giunta Arbore Mascia, bocciata dai cittadini nel 2014, che tutti ricordiamo per l'enorme debito lasciato, mettendo a rischio il fallimento per il comune, conclude Moreno di Pietrantonio. Sempre sulle pagine di Pescara del Messaggero, Ruspe in via Lago di Campotosto, ritrovati due proiettili di guerra. Poi in taglio basso, Nuova Pescara, il blitz di Fidanza, eletto a sorpresa alla presidenza della Commissione Statuto con i voti di Spoltore e Montesilvano. Poi ancora, Rigopiano, unificati i due filoni, sono 29 gli imputati. Il presunto depistaggio confluisce nel procedimento principale, attesa a fine mese la comunicazione ufficiale. Si amplia l'esigenza di approfondimento, i parenti delle vittime a fronte dei rinvii temono il rischio della prescrizione. Poi ancora la lettera inviata al Ministro Bonafede, parte civile, l'avvocato al Ministro. Lo Stato non può lasciarci soli. Poi ancora la CGL, il salva precari, non basta. Insegnanti in piazza l'11 di novembre, anche Pescara, la manifestazione di Roma, Trotta e Pascarella. Basta con i tagli e mancate promesse. Andiamo avanti nel Pescarese, siamo a Rosciano, un paese in lutto per il piccolo Chiglian, o meglio a Turri Valignani. Bandiera a mezz'asta, elezioni sospese per il bimbo di tre anni, morto nell'incidente stradale. Cordoglio del sindaco Gianni Placido, tra i primi a giungere sul luogo della disgrazia. Fatto assurdo, siamo tutti sconvolti. Domani o domenica il funerale, l'abbraccio della comunità a Marco e Martina De Luca. Poi ancora con Next, già 150 aziende nella nuova piattaforma. Fino al 28 novembre ci si può iscrivere alla prima edizione dell'evento abruzzese nel campo del networking. Giulia Bertagnolio ha illustrato in Confindustria a Chieti Pescara le potenzialità della rete. Andiamo avanti, siamo sulle pagine dell'Aquila. I buchi neri della ricostruzione ancora fermi, aggregati milionari. I problemi sono legati alle schede parametriche. In alcuni casi la parte seconda non è stata presentata. Tra gli aspetti positivi c'è la svolta ormai vicina per l'avvio del restauro di Palazzo Branconi Farinosi. Molti nodi da sciogliere anche per i paesi del circondario. Il caso simbolo è quello di Coppito. Poi in basso, ricordate l'omicidio dello sfortunato Luca Sacchi a Roma di alcuni giorni fa. Luca non sarà sepolto a Montereale, Montereale che è il comune del quale sono originari i genitori di Luca Sacchi. Andiamo avanti, parchi e aree verdi, lotta al degrado. Il comune sta portando avanti lavori per 130 mila euro in dieci realtà che avevano necessità di un restyling. Castello Collemaggio, Unicef, Baden Powell e Pettino tra le aree oggetto degli interventi ritenuti più urgenti. Call center scongiurati, 130 esuberi soddisfatti, biondi e pezzopane. Poi a Sulmona si prescriveva droga, arrestato infermiere. È accusato di essersi impossessato dei ricettari medici utilizzando timbro e apponendo firme false dei dottori. Truffa, falso, peculato e detenzione di stupefacente. Le accuse per le quali il GIP Billy ha convalidato la misura cautelare. Andiamo avanti, siamo alle pagine di Chieti. Mamma Rosa tutto l'anno, insieme Regione e Parco. Iniziativa da 34 milioni per valorizzare l'intero comparto scistico anche d'estate. Dopo le autorizzazioni ambientali, l'inizio dei lavori è previsto nel 2021. La Maiella è destinata a diventare un biosito patrimonio dell'UNESCO. A tal proposito ascoltiamo le parole dell'assessore regionale Mauro Febbo. Cambia nel senso che diventa un bacino appetibile ai fruitori e soprattutto diventa fruibile durante tutto l'anno. Perché oggi non è più pensabile tenere degli impianti solo per lo sci. Ma deve essere utilizzato peraltro e questo è l'intendimento. E su questo con il Parco siamo in piena sintonia. E questo anzi che ci dà la possibilità di lavorare e di ottenere anche le autorizzazioni. Quindi partiamo con questo grande progetto. Un progetto che noi contiamo diventi un progetto leader per tutto il centro-sud. D'altronde il bacino fino a oggi con tutte le difficoltà comunque attira molti pugliesi, molti laziali, molti campani. Ne vorremmo ottenere molti di più perché credo che quello è un bacino che può ricevere molta più affluenza. C'è grande entusiasmo perché ci sono le risorse, sono nel cassetto e devono essere spese. Questo è l'impegno di tutti gli enti. C'è grande entusiasmo, c'è condivisione degli obiettivi e quindi questo ci permette di poter presentare i progetti prima al via e poi al parco per poter poi fare le gare. E quindi arrivare a metà, prima dell'estate del 2021, ad avere le gare di appalto e partire per i lavori che devono essere ultimati per norma entro il 2023. Un progetto unitario complessivo per una spesa di 34 milioni. Ne abbiamo solo 20 e 200, quindi facciamo un primo blocco. Non è detto che non arrivino i proposti anche per esempio di progetti finanzi e quindi fare tutto insieme. Oppure trovare gli altri fondi nella prossima programmazione 2021-2027. Sempre sulle pagine di Chieti, stadio, lavori per il manto erboso, il manto dello stadio Angelini. Lavori che inizieranno a breve e termineranno entro il mese di gennaio. E poi ancora Sevel, la fiducia della Val di Sangro con le parole dell'assessore Febbo. La fusione tra FCA e PSA consolida un rapporto con l'Abruzzo che esiste da 40 anni e rafforzerà il brand. Dal 2021 saranno due gli stabilimenti europei che produrranno il veicolo. Si aggiunge anche Grivice in Polonia per 200 mila unità. Andiamo avanti. Pagine di Teramo. Gli sfollati delle case Ater. Ora sfonderemo le porte. Gli inquilini vogliono rientrare negli alloggi. Ci denunceranno? Bene. Ci faremo sentire. Intanto sui problemi della ricostruzione il sindaco invita Papa Francesco in città. Infiammata riunione con il comitato costretto a rimanere fuori dalle abitazioni per le conseguenze del terremoto. Poi questo fatto di cronaca a Roseto. Geloso picchia la moglie. La figlia chiama la polizia. Poi ancora siamo a Giulianova. Il ponte sul Tordino rischia il collasso. Cedono due tavole di sostegno sul piano ciclopedonale. Passante in bicicletta nota il dissesto e lancia l'allarme. Il comune. Abbiamo i fondi per consolidare l'infrastruttura. Ma la regione vuole in contemporanea i lavori sul lungomare. Lasciamo il messaggero. Andiamo a vedere le pagine della città. Il quotidiano della provincia di Teramo. Si parte con l'argomento della ricostruzione. Emendamento subito o scenderemo in piazza. Regione, provincia e comuni chiedono semplici modifiche al decreto sisma. Ma preparano la protesta. Queste sono le richieste di modifica. Fronte compatto per gli amministratori locali. Il decreto sisma non basta. Non vogliono correre i rischi delle modifiche parlamentari. E poi ancora Spoon riporta a Teramo sulla guida Michelin al locale di Marco Cozzi e Felice Cioci. Va il riconoscimento per il migliore rapporto qualità-prezzo del menu. Pagina 9. Aperto il sottopasso delle polemiche a Villa Pavone. Una barriera architettonica. Per ora il servoscala non funziona. Pagina 10. Con la manifestazione che si è tenuta ieri. Tutte blu. 750 posti a rischio nel Terramano. Ieri lo sciopero dei metalmeccanici. Col presidio davanti alla Prefettura. La crisi del settore tocca la vibrata. Due ore di sciopero nazionale. Per ribadire l'importanza del settore. La situazione di crisi. E la necessità di investimenti. E di strumenti normativi di sostegno alle imprese. Il servizio. 750 posti di lavoro a rischio. Scarsa sicurezza sui posti di lavoro. Troppi incidenti e infortuni. Si rischia una vertenza Teramo. A denunciare questo stato di cose sono i rappresentanti delle sigle sindacali teramane di FIM, FIOM e WILM. Che in presidio a Teramo hanno consegnato simbolicamente alla politica locale problematiche, rivendicazioni e richieste dei lavoratori metalmeccanici. Tante le vertenze aperte in provincia di Teramo. Quali in particolare? In particolare ci sono ATR di Colonnella, VECO di Martinsicuro e SELTA di Tortoreto che sono quelle che più di altre ci stanno destando preoccupazioni. Tra l'altro la SELTA è ferma al MISE come altre 160 in Italia. Oltre queste però se ne sommano tante altre di aziende più piccole dove comunque si sentono grosse difficoltà. Quali sono i dati di queste difficoltà, di queste vertenze, di questa mancanza di lavoro e di stipendi? Una nostra stima parla di 750 posti di lavoro a rischio nei prossimi mesi. Purtroppo per come si stanno determinando alcune vertenze, quelle più importanti appunto, temiamo che 750 sia un numero sottostimato. Per cui questi sono i posti di lavoro che si stanno rischiando. Ma c'è anche il settore automotive con i 2000 dipendenti che comunque dà segnali di preoccupazioni legati alla crisi complessiva del settore a livello globale. E voi a chi vi rivolgete? Ma è sempre più complicato trovare un interlocutore. Da un lato il tavolo delle crisi industriali in provincia è stato dismesso. Dall'altro la regione sostanzialmente è latitante perché non si riesce ad avere un'interlocuzione concreta sulle tematiche. Per cui facciamo fatica a trovare qualcuno che ci ascolti. Presenti anche le delegazioni delle storiche vertenze terramane, ATR di Colonnella, Celta di Tortoreto, Vecco di Martinsicuro. Per ricordare che il settore dell'automotive nel terramano occupa 2000 addetti e che va sostenuto perché la crisi incombe. Proseguiamo sempre sulla città. Pagina 11, Abruzzo e Molise stretti al manager Fagnano. Ieri a Campobasso i funerali delle 56enne, il direttore della Sanità regionale è stroncato da un infarto fulminante. Andiamo avanti. Siamo a Giulianova. Ecco qui chiesta la demolizione di Palazzo Gavioli. Il cittadino governante presenta una mozione per spingere il sindaco a emettere una ordinanza per l'abbattimento. Il sindaco ha già fatto presente che i tempi per un'eventuale demolizione potrebbero essere molto lunghi. E ora Roseto. Ecco qui più spiagge libere col nuovo piano demaniale. Nel documento pronto ad arrivare in consiglio nessuna deroga edilizia per gli stabilimenti. Tra i progetti varati dall'amministrazione comunale anche la creazione di un mercato ittico. E poi sempre a Roseto ma siamo alla cronaca. Quindicenne salva la famiglia dal papà violento picchiato dopo aver difeso la madre dall'aggressione. Porta al sicuro i fratellini e chiama la polizia. L'uomo da tempo avrebbe comportamenti violenti nei confronti dei figli piccoli e della moglie. Ora apriamo la parentesi finale legata allo sport. Sempre sulla città leggiamo Magnaghi pronto alla sfida tra i bomber. Un marilungo fortissimo. Dennis un animale. Con corazza ci sfidiamo da bambini. Antenucci visto in tv. E poi ancora martedì ritorna Soprano. Il difensore centrale dopo un infortunio con annessa ricaduta. A partire dalla prossima settimana tornerà ad allenarsi col gruppo dei compagni. Ieri assente Mungo per precauzione. Poi in basso ecco qui infortuni è la zona. Così la Saporiveri e Roseto cade con Sansevero. La formazione di coach d'Arcangeli non è riuscita ad approfittare dell'assenza del lungo Kennedy. Lasciamo la città. Andiamo a vedere le tre testate nazionali sportive. Prima di tornare su centro è messaggero. Ecco l'apertura del Corriere dello Sport. VAR. Si gioca sul acronimo di VAR. Verità a rischio. Polemiche infinite. E caos calcio. Rizzoli assolve Giacomelli ma gli arbitri sono divisi. Un turno per Ancelotti. De Laurenti si chiama Gravina. Ci vuole più trasparenza. E poi ancora sotto la testata Lampo di Suso. Pioli sa vincere. Punizione dello spagnolo. Il Milan batte la spalla 1-0. Primo successo per il nuovo allenatore. Ci voleva. E poi ancora la Gazzetta dello Sport. Che apre così il Milan torna su So. L'uomo più discusso. Regala a Pioli la prima vittoria. A San Siro contro la spalla. Lo spagnolo entra nella ripresa e segna su punizione. E poi sotto la testata CR7 esame da 30 e lode. Già 29 gol nel 2019 con la Juve a caccia di un altro Espluà. Vidal colpo per sognare. Conte vuole il cileno del Barça. Darmian è un vice Lukaku. E poi in basso la VAR finisce in Parlamento. Interrogazione per tutelare i tifosi. La prima di tutto sport. Ecco qui Luna Park Juve. Pjanic esclusivo. Vi racconto quanto è divertente con Sarri. Poi ancora sotto la testata. Toro. Derby da incubo. Squadra lo sbando e ritiro dopo il flop a Roma. Mazzarri in bilico. E domani sera una sfida terribile. Di spalla. Il Milan riparte. Suso entra e colpisce. Spalca 1-0. Soglievo Pioli. Ranieri esclusivo. Salvo la Sampdoria. Grazie all'entusiasmo. Torniamo sui quotidiani locali. Andiamo sul centro. Ecco qui. Siamo alla pagina dedicata al Pescara. Castrati. Io il Pescara è quel sogno Albania. Il portiere aggiunge il mio momento. Spero che Rea mi convochi in nazionale. Mi spiace per il capo di martedì. Domani contro il Pisa. Dobbiamo ripetere la gara fatta col Benevento. Meritiamo di più della salvezza. Ma dobbiamo trovare continuità. A Zauri il suo calcio mi piace. Poi ancora è arrivato al Delfino del 2013. Sono cresciuto qui e adoro questa città. Mi ispira Neuer e ho iniziato a parare. Grazie a mio fratello. Poi notizie appunto dal campo. Allarme Palmiero. Rientra Memusha. Il centrocampista ha un fastidio al ginocchio. Contro il Pisa avanti col 4-2-3-1. E poi Serie C. Teramo vuole il poker. Domenica Albonolis. La trappola Bisceglie. Diavolo a caccia della quarta vittoria di fila. Però i pugliesi fuori casa hanno un ruolino pericoloso. Magnaghi. Avanti. Tutta. E poi ancora. Serie D. Chieti. Tacchi. Storia infinita. Cristian sulle orme di papà. L'attaccante. Filho di Maurizio e nipote di Juan Carlos. Esordito a Giulianova. L'ex bomber. Gli auguro di vivere le mie stesse emozioni. Con quei colori speciali. Poi Dottavio. Vasto era nel mio destino. Il nuovo DS. Dovevo venire 28 anni fa da giocatore. Ora devo capire cosa non va. Poi per il basket di A2. Nicolic striglia Roseto. Basta errori. Il play serbo recupera dall'infortunio alla caviglia. Contro Sansevero. Troppe distrazioni. Ora battiamo Manto. E poi una serie di richiami. In Serie B. Chieti. Esa Chieti in piena crisi. Marchesani. L'obiettivo non cambia. Voglio l'A2. Teramo verso Senigallia. Cucchiaro è in dubbio. Di Eusagno va in Cigold. E poi Giulianova ciocca. Suona la carica. Giulianova adesso subito una reazione. Andiamo a chiudere con le due pagine di sport del messaggero Abruzzo. Ecco qui D'Angelo. Il D'Angelo Pescarese contro il Pescara. Domani pomeriggio. La partita del cuore per il tecnico della neopromossa a Pisa. Nato e cresciuto a Portanova. Quando vedo il mio mito, repetto, mi emoziono ancora. Dice Luca D'Angelo. Ha conquistato tre promozioni in dieci stagioni. Il nostro obiettivo è la salvezza. E poi Paperone Verratti. Rinnovo record col Pesce da nove milioni. Per il basket. Roseto piegato dai troppi infortuni. Da Di Nicolic la migliore prestazione. Ma non è bastato ad evitare il K.O. con il Sansevero. E poi ancora Serie C. Magnaghi. Le parole delle centramanti. Teramo conterà il Bonolis. L'attaccante con il Pordenone ha conquistato la Serie B. Non perdendo mai in trasferta. E quindi serve più continuità. Però i punti raccolti in casa per adesso sono veramente preziosi. Dice appunto Magnaghi. E poi di spalla per la Serie D. Pineto. In due partite si decide la stagione. Derby con la Vastese. E poi la Re Canatese bisogna recuperare. Sul fronte Vastese torna il Sereno con il mister Amelia. Eccellenza Lanciano. Il Fortino crolla dopo due anni e mezzo. Lanciano sconfitto in casa nell'ultimo turno del campionato di eccellenza. Ci fermiamo qui con questa edizione di Mattino 6 che vi dà appuntamento a domani sempre alle ore 8 per sfogliare le pagine dei quotidiani. Io vi ricordo gli appuntamenti informativi con il TG6 anche in questa giornata di ogni Santi di questo primo di novembre. Le tre edizioni principali sono quelle delle ore 14, 19 e 23. Grazie a Loris Bennato per la parte tecnica e grazie a voi per la cortese attenzione. Buona giornata. Grazie a tutti. Buongiorno e ben trovati con questa edizione di Mattino 6, venerdì 1 novembre 2019. A tutti voi gli auguri per una buona festa di ogni Santi. Partiamo subito con la nostra rassegna stampa. con le prime pagine dei quotidiani locali. Andiamo sulle quattro edizioni del centro. Questa è l'edizione di Pescara. Bambino morto indagato lo zio. Incidente di Rosciano. L'auto era condotta dall'uomo positivo alla cocaina. Poi sotto la testata la manovra del governo. Rivalutate le pensioni basse. Scontro sulle auto aziendali. Scendiamo a centro pagina. Vediamo la foto notizia. Grandi e piccini. La festa di Halloween colora la città. Gli eventi continuano con Cioccolandia a Pescara. Poi ancora di spalla per lo sport. Castrati visita appunto la redazione del centro. Io, Pescara e l'Albania. Elan Castrati, 22enne portiere del Pescara, si gode il momento dopo l'infortunio del capitano Fiorillo. Il giovane albanese si è raccontato al centro tra presente, passato e un possibile futuro tra i pali della nazionale. I richiami di Cronaca. Ecco qui, Pescara da martedì. Via Rapietra, senso unico per 40 giorni. Stanno per partire finalmente i lavori di riqualificazione di Via Rapietra attesi da anni. Martedì prossimo, 5 novembre, l'impresa Prorec di Elice che si è giudicata all'appalto per il rifacimento di quattro strade della città. Aprirà il primo cantiere in Via Rapietra e la circolazione sarà rivoluzionata. E poi ancora Francavilla, lite in strada, picchiato dal pugile, e migliora il ristoratore. Mio fratello ha aperto gli occhi e ha lasciato intravedere qualche segnale di ripresa. Arrivano notizie incoraggianti su Antonio Cicalini, il ristoratore, 64 anni, aggredito da un pugile venerdì scorso. E poi la fusione dei comuni. Nuova Pescara, la presidenza della commissione va a Montesilvano, in particolare a Enzo Fidanza. E poi ancora Università Alex Cofa. Cofa, ecco il progetto, il documento inviato dal rettore Caputi al sindaco, Campus con servizi per studenti. E poi il progetto caregiver della regione, bando per gli aiuti alle famiglie con minori gravemente malati. Celano Agricoltura nasce un nuovo polo ortofrutticolo con investimento di 30 milioni. E il Buongiorno Abruzzo di Giuliano Di Tanna, dedicato alle festività di questi giorni, ogni santi e poi la ricorrenza per i defunti, tutti i morti di domani. Quel patto tra vivi e morti che onoriamo. Andiamo avanti e siamo sull'edizione di Chieti Lanciano Vasto, del centro, l'apertura, impianti da sci, pronti 20 milioni. Passo Lanciano, piano della regione per il rilancio della Maielletta. E poi ancora la fotonotizia, ladro di identità, truffa i disoccupati con falsi annunci, scatta la denuncia dei carabinieri a Chieti. E poi sempre per lo sport, calcio di serie D, Chieti, Tacchi, storia infinita. Cristian come il papà sulle orme di nonno Juan Carlos, Stelizzi, Oscar e Giancarlo e del papà Maurizio, ex Nero Verde. La dinastia Tacchi ha un nuovo erede e Cristian, classe 2002, attaccante del Chieti che domenica ha esordito in serie D. E poi i richiami di cronaca. Siamo a Lanciano, il mercato riapre agli ortolani dopo un mese. Torna ad aprire le porte a venditori acquirenti. Il mercato coperto di piazza Garibaldi a Lanciano dopo un mese di chiusura forzata per la ristrutturazione dovuta alla devastazione dell'ex gestore. Il comune ha allestito il lato est della struttura. Gestione provvisoria per sei mesi. A vasto tribunale, ora via ai processi a distanza. In tribunale arriva l'impianto tecnologico per consentire le audizioni in videoconferenza durante i processi. In questo modo sarà più facile celebrare i maxiprocessi. E poi a Guardiagrele manca l'acqua, vertice Sasi-H con il comune. Torniamo alla cronaca. Bimbo morto, zio finisce sotto accusa. L'uomo guidava sotto effetto di cocaina. Anche la mamma positiva al test. Proseguiamo e siamo sulla prima pagina del centro. Edizione di Teramo. L'apertura. Metalmeccanici. Protesta in piazza. Nel Teramano 750 posti a rischio. L'accusa. Ignorati dalla politica. E poi a centro pagina. La fotonotizia. Ricostruzione. I sindaci pronti a marciare su Roma. Il tavolo ieri in provincia. Decreto da rifare. E poi per lo sport di spalla. Calcio di Serie C. Con le parole del presidente del Teramo Iachini. Venite in 3.000 per il Teramo. Dopo le tre vittorie consecutive che hanno rilanciato il Teramo. Si guarda con fiducia alla partita di domenica contro il Bisceglia. La società lancia sui social un appello ai tifosi. Che ne dite? Tagliamo quota 3.000. E poi ancora i richiami. E siamo in Val Vibrata. Ad Alba Adriatica. Trovato morto in casa dopo 20 giorni. A chiedere aiuto sono stati i vicini di casa che da tempo non lo vedevano. Allarmati. Soprattutto dal cattivo odore proveniente dall'appartamento. Un pensionato. 60 siena. È stato trovato morto nella sua abitazione di Alba. Dopo 20 giorni. È stato stroncato da un malore. Poi a Roseto botte alla moglie. La figlia 15enne chiama il 113. Un turco di 36 anni. Residente a Roseto. È stato allontanato dunque dalla casa coniugale. E poi pronto il piano. Roseto ecco come cambierà la spiaggia. Torniamo alla cronaca. Carne a rischio. Intrea a processo. Rinvia giudizio per due commercianti terramani e per un veterinario che lavora alla ASL. E siamo all'edizione aquilana del centro che apre così. 2000 multe. Il comune fa cassa. L'Aquila. In nove mesi 355 mila euro di sanzioni. Entro fine anno. Quota 500 mila. E poi la fotonotizia a centropagina. Capitano ultimo. Vi racconto la mia lotta alla mafia. L'uomo che catturò Rina incontra gli studenti di Carsoli. E poi abbiamo di spalle all'iniziativa l'Aquila Capoluogo. Appello per la nuova legge. Salvare la legge regionale sull'Aquila Capoluogo. Dopo le polemiche per la bocciatura da parte della consulta del testo voluto. La centrosinistra c'è chi propone di ripresentarla. Altri richiami. Ecco qui. L'Aquila non deve risarcire. Pezzopane vince la causa contro Zaia. La deputata Stefania Pezzopane non deve pagare 440 mila euro di danni. all'ex ministro Luca Zaia in relazione alle accuse pronunciate nella trasmissione Chiambretti Night per la visita fugace a Onna dopo il sisma del 2009. Lo ha deciso la Corte d'Appello. Incidente a Perugia. Muore a 23 anni dopo 9 giorni in stato di coma. Una ragazza di 23 anni, Federica Ferrante di Carsoli, è morta. Dopo 9 giorni di coma in seguito a un incidente stradale avvenuto mentre tornava dall'Eurochocolate di Perugia. a Sulmona ospedale truffa con false ricette. Scatta un arresto. E poi di nuovo sotto la fotonotizia movì da fuori legge otto le denunce blitz della finanza da Vezzano e Tagliacozzo. L'accusa sfruttati 150 lavoratori in nero. Andiamo ora sulla prima pagina del messaggero Abruzzo. Ecco qui l'apertura. Non sapevamo dei veleni. Gran Sasso, l'assessore imprudente. L'inquinamento dell'acqua è emerso solo ora. Subito la nomina del commissario. Per Gisonni manca soltanto la firma di Conte. E poi un po' più in taglio medio. Fiducia in Val di Sangro. FCA PSA alla Sevel. L'accordo c'è già da anni. Furgoni apri pista. Andiamo sotto la testata. Ci sono una serie di richiami. La rivolta a case popolari. Gli sfollati sfonderemo le porte. La sasperazione appunto degli sfollati a Teramo. E poi per il calcio. Verratti, Paperone, rinnovo record da 9 milioni con il Paris Saint Germain. E sempre per il calcio ma di serie B. D'Angelo, il pescarese Doc, vuole arpionare il Delfino. Domani appunto ci sarà la partita del cuore per il trainer del Pisa. Cresciuto a Porta Nuova. Quando vedo, ripeto, ancora mi emoziono. È un mito queste le parole di Luca D'Angelo. Che ha riportato il Pisa in serie B. Di spalla, grandinata, bocciati, i risarcimenti dell'emergenza. Non ci sono i requisiti necessari ma molti alloggi hanno dei danni. E poi ancora per la cronaca centropagina. Chilian, l'intero paese chiude per lutto. Atturi Valignani, il bimbo di tre anni, vittima dello schianto. In taglio medio sempre lo stato assente nella tragedia del resort crollato. Rigopiano illegale dei familiari delle vittime. Grave la mancata costituzione di parte civile. E poi ancora a Sulmona rubava ricettari, infermiere nei guai. La prima pagina della città, il quotidiano della provincia di Teramo. Salva la famiglia dal padre Orco, 15enne picchiato dopo aver difeso la madre. Porta al sicuro i fratellini e chiama la polizia. E poi ancora sotto la testata ricostruzione, battaglia sul decreto sisma. Ultima chiamata per Conte. Poi scenderemo in piazza. In Val Vibrata, ad Alba, muore in casa trovato dopo 20 giorni. La fotonotizia centropagina valanga su Gran Sasso, impianti sciistici. Fan Adriano chiede 110 mila euro alla società. E poi ancora di spalla, metalmeccanici nel Teramano 750, tute blu, rischiano il posto di lavoro. E poi andiamo in taglio medio. Il ciclista caricato da un cinghiale lungulato, li mastica la bicicletta. Lui riesce a fuggire. A Giulianova, Palazzo Gavioli per Arboretti, demolire subito. E poi in taglio basso, Ristorazione, Felice e Marco riportano Teramo nella guida Michelin. Dopo 20 anni. Lasciamo i quotidiani locali. Andiamo ora sulle prime nazionali. Partiamo dal Corriere della Sera. Tasse, battaglia nel governo. Effetto Umbria sui sondaggi. Lega in crescita al 34,3%. Calano Movimento 5 Stelle e PD. Maggioranza divisa sull'imposta per le auto aziendali. I sindacati e l'emosina sulle pensioni. E poi ancora, in taglio medio, la fotonotizia. Il pianto di carta assolto. E la fine del mio incubo. Era accusato del furto di sei magliette alla Rinascente. Di spalla, sì, della Camera. Sarà decisivo il Senato. Impeachment. Procedura al via contro Trump. Proseguiamo. Siamo sulla prima di Repubblica. Ecco qui, migranti, le bugie di Salvini. Intervista al Ministro dell'Interno, Luciana Lamorgese. Che dice, ma che invasione? Ecco la verità sugli sbarchi. Rattristata per il voto sul razzismo. Liliana Segre, stupita dalla destra. Non ci si astiene dalla lotta all'antisemitismo. Si schiera anche il Papa. Conte al Copasi. Rigenenza russe in Italia per le elezioni europee. E poi ancora la senatrice a vita, Liliana Segre, dice così. Il passato può ripetersi. Abbiamo poi questo richiamo. La grande alleanza. Sì, alle nozze FCA Peugeot. La fusione entro Natale. Andiamo poi in taglio medio. Ecco qui, Nancy e Donald. La battaglia finale. Pelosi avvia la procedura per l'impeachment. Trump furioso. Caccia alle streghe. Andiamo avanti. Siamo sulla prima del messaggero. Manovra lite su auto e pensioni. Renzi e Cinque Stelle. Stop alla stangata sui veicoli aziendali. Ira di Conte. Il MEF frena. Aumenti graduati. Mini rivalutazione degli assegni. No dei sindacati. E divide l'incremento di stipendio ai ministeriali. Sotto la testata la scoperta. L'Urid inedito. Trovate in archivio 12 canzoni ispirate ad Andy Warhol. E poi la polemica. Sviste in aumento. Gli arbitri utilizzano sempre meno la VAR. Politici in campo. Andiamo poi in taglio medio con la fotonotizia. Trump lo schiaffo impeachment. Parte la procedura per l'Ukrainian Gate. Donald dice vergogna. E poi sempre in taglio medio. I killer di Luca Sacchi pronti a parlare ai PM. Così è stato ucciso. Del grosso e pirino cambiano strategia. Il giallo della pistola non è stata trovata. Andiamo avanti e siamo sulla prima pagina del tempo. Il partito del rigore. Paese in crisi. Tasse alle stelle. I politici pensano al penalty non dato al Napoli. Interrogazione bipartisan al governo. Per garantire la regolarità del campionato. E poi il tempo di Osho è iniziato il circo al via l'impeachment contro Trump. Dolcetto scherzetto proprio per rifarsi alla notte di Halloween. Ragazzi non è aria con questa espressione appunto di Donald Trump. E poi sotto la fotonotizia è una trappola politica. La mozione sul razzismo. Se in buona fede avrebbero cercato l'accordo con il centro-destra. Ma volevano linciarlo. Proseguiamo. Siamo sulla prima della stampa. FCA Peugeot. La sfida è globale. John Elkan nasce qualcosa di speciale. Il Premier Conte nessun costo ma sviluppo per il paese. Autoconnesse, elettriche pulite per superare Toyota e Volkswagen. Parla Landini. Scelta strategica. La fotonotizia artissima gioca tra censura e desiderio. Si è aperta ieri all'Oval la mostra mercato torinese. E poi ancora manovra. I renziani frenano. Zingaretti come le destre. I sindacati e i pensionati. 25 centesimi in più al mese. Andiamo sulla prima pagina del mattino. FCA PSA. I rischi per il sud. A Melfi. Possibili sovrapposizioni per la GIP. A Pumiliano. Alfa intoccabile. Il lingotto. Vole in borsa. Crollo del titolo francese. Whirlpool. 5.000 in corteo. E poi ancora. In taglio medio. La fotonotizia Baia. La magia dei mosaici in fondo al mare. La scoperta nel golfo di Pozzuoli. Nuovi percorsi sommersi. E poi ancora. Rabbia Napoli per il rigore negato. Seria nemica. Beffa per Ancelotti. Giacomelli lo fa fermare per un turno. Difesa dei vertici arbitrali su Llorente. Decisione giusta. E poi in taglio basso. Ucraina Gate. Lo schiaffo a Trump. Il congresso. Sì all'impeachment. Il presidente degli Stati Uniti sotto accusa. Vergogna. Andiamo sulla prima pagina del manifesto. Che apre così con questo titolo. Ruota di scorta ufficiale. La fusione tra FCA e Peugeot. Quote azionarie per entrambi al 50%. Ma il pilota dell'alleanza sarà Carlos Tavares. Con la casa francese molto più avanzata su auto ibride ed elettriche. Ad Elkan la carica di presidente. Timori per gli stabilimenti italiani. Sotto la testata leggiamo. Conte non straccia il memorandum. L'Unione Europea smentisce hotspot in Libia. Il Premier. L'accordo con Tripoli non va gettato in mare. Prima pagina del fatto quotidiano. Conflitti di interessi al Senato. Gli strani giudici che possono salvare i vitalizi. E poi ancora il leghista oscurantista Pilon. L'avvocato Cagliendo vicino alla P3. E l'ex PM Martellino legato a Previti. E poi ancora leggiamo in taglio basso. Indagini e processi sulla Lega perquisita la regione per i favori di Fontana. E Brigandi condannato. Grandi manovre per Roma. Il sindaco segreto Di Salvini e Giorgia Meloni per fregarla. Poi ancora in basso dieci anni fa moriva la grande poetessa Alda Merini. La storia di un delirio amoroso. La prima pagina della verità. Leggiamo l'apertura con il retroscena delle ultime inchieste fiorentine. e milioni dall'uomo della Leopolda dati da Toto per il Giglio Magico. L'ex presidente della fondazione Open Bianchi conferma che Alfonso, figlio del patron Carlo, gli rivelò di aver coperto di soldi donnini. Questi si offriva come intermediario con Lotti che aveva delle galle Cipe e con l'allora Premier Renzi. L'emendamento voluto dal PD beneficò la strada dei parchi. ma l'imprenditore abruzzese nega. E poi la fotonotizia, intervista con Giorgia Meloni. Siamo cresciuti, vogliamo un candidato di Fratelli d'Italia in Puglia, Marche e Toscana. In taglio medio, sulla prima pagina della verità, in commissione sull'odio. Si regolano i conti, la Caffagna si ribella all'astenzione, Berlusconi la gela. Vada pure, i prelati bergogliani attaccano Salvini. Prima pagina di Libero, assurdo trattamento economico quotidiano, ai disabili mezzo euro, ai fanulloni 16 euro, agli immigrati oltre 20. Lo Stato destina appena 600 milioni l'anno per 3,2 milioni di non autosufficienti, mentre spreca miliardi per reddito di cittadinanza e accoglienza di finti profughi. Poi questa fotonotizia in realtà divisa in due. Da una parte John Elkan, fenomeno presidente di Fiat Peugeot, dicevano che era stupido, ora è il re mida della borsa. E poi nuova lettera del muratore dal carcere a Libero. I figli di Massimo Bossetti meritano di essere aiutati. Avanti con la prima pagina del Sole 24 Ore, il risparmio italiano nel vicolo cieco. E poi in dettaglio medio, fusione alla pari tra FCA e Peugeot, nuovi modelli in vista. Andiamo a chiudere con la prima pagina di Avvenire, che apre con segreti di Libia. E poi in dettaglio medio, Trump, primo passo per l'impeachment. Sempre in dettaglio medio, nelle parole di Mattarella, no a egoismi, non riscrivere la storia. Possiamo lasciare le testate nazionali, torniamo a quelle locali e ripartiamo dunque dal centro. Pagina 2, ecco qui, miniere della Maiella, risorsa per il turismo. Speleologi di tutto il mondo si incontrano a letto manoppello. In taglio basso, sempre a pagina 2, De Magno, caserme ed ex conventi all'asta. Entro il 15 di novembre le offerte per 98 immobili. In Abruzzo sono 4 per un valore di 3 milioni di euro. Poi pagina 3, acquistato l'ex zuccherificio, nuovo polo ortofrutticolo, investimento da 30 milioni. A Celano arrivano le celle frigorifere per conservare i prodotti agricoli del Fucino, operazioni di Covalpa, AMP e AgriFood. I dipendenti passano da 250 a 400. In taglio basso, tavolo dello sviluppo, si è insediata la cabina di regia. Marsiglio, vogliamo individuare le priorità reali. Febbo, ci confronteremo con tutte le categorie. Pagina Abruzzo con il bando caregiver, aiuti ai minori con disabilità. Domande entro il 19 di novembre. Pubblicato l'avviso per i fondi a chi si prende cura di piccoli gravemente malati. La regione ha stanziato 440 mila euro che serviranno a sostenere 44 famiglie. Poi ancora prevenzione, tumori femminili, screening su 1.211 donne. Poi di spalla l'iniziativa dell'avvocato dei familiari Rigopiano. Lettera al ministro Bonafede. Lo Stato è assente. Vediamo il servizio realizzato dal Tg6. Udienza rinviata al 29 novembre alle ore 9.30 quando il GUP Gianluca Sarandrea sarà chiamato a formalizzare la riunificazione del filone principale con quello del presunto depistaggio delle indagini sulla tragedia dell'hotel Rigopiano. La decisione del GIP Antonella Di Carlo è arrivata al termine di un'udienza flash durata appena 10 minuti che ha lasciato di stucco i pochi familiari delle vittime presenti in tribunale. In più, la prossima data utile potrebbe saltare a causa di un nuovo sciopero degli avvocati. Siamo scoraggiate, scoraggiatissime anzi per dire questa cosa. Perché quando sarà poi? Io non me lo ricorderò. Data la mia età. Mio marito neppure. Non lo so come andremo a finire. Non lo so. Un futuro incerto di questa cosa. Incerto. L'avvocato Romolo Reboa ha commentato con sarcasmo la decisione di oggi. Forse, magari se il 29 novembre, se c'è un rinvio per caso per l'astenzione che sembra che la Camera Penale voglia annunciare, si potrà rinviare al 4 dicembre. Perché il 4 dicembre? Perché non il 30 novembre? Perché forse è sabato il 30 novembre, potrebbe anche essere il giorno d'udienza. L'avvocato Romolo è tornato anche sulla mancata costituzione di parte civile dello Stato nel processo contro i vertici della Prefettura di Pescara per il reato di depistaggio, mostrando alle telecamere una lettera inviata nei giorni scorsi al Ministro della Giustizia Alfonso Bonafede. Per quello che mi aveva stupito fortemente, l'avevo detto anche nelle dichiarazioni dell'altra volta, era l'assenza in questo processo della costituzione di parte civile da parte dello Stato nei confronti di funzionali dello Stato accusati di depistaggio. Ho pensato che fosse un problema burocratico. Oggi ho visto che non c'era, nessuno si è costituito, ne prendo atto. Come avvocato non posso riprendere atto della notizia negativa. Certo, mi avrebbe fatto piacere avere la costituzione di parte civile in questo processo di depistaggio da parte dello Stato. L'avrei sentita un fatto obbligatorio, soprattutto nei confronti di queste povere famiglie. Mi viene da pensare che a questo punto sicuramente vi sia una grossa assenza da parte dello Stato, visto che la legge per Rigopiano poi non ha avuto neanche attuazione, fino a oggi è passato un altro mese da allora. Se questo processo non avesse avuto questo comitato, queste famiglie così legate, così alto, sarebbe stato uno dei tanti processi, probabilmente ritenuto per una disgrazia territoriale, per un evento imperscrutabile, cosa che non è questo processo, ma molti pensano che potrebbe essere. Andiamo sempre sul centro, il CAI apre il sentiero della Brigata Maiella, da Guardia Grela a Castel San Pietro per riscoprire i territori attraversati dai partigiani nel 1945. E ora le pagine di Pescara, pagine della Croaga, siamo nel Pescarese con la tragedia di Rosciano. Il primo bimbo morto guidava lo zio sotto effetto di cocaina indagato. La sorrellina scioglie i dubbi degli investigatori Stefano De Luca nei guai per omicidio stradale. Anche la mamma del piccolo Kilian è risultata positiva al test sull'eventuale assunzione di droga. E a Turi Malignani una comunità in lutto. Il sindaco, paese sconvolto per Kilian, funerali solenni. E poi la zucca di Halloween, il suo ultimo lavoretto, il ricordo commosso delle maestre di Kilian. L'ultimo saluto prima della tragedia. La maestra Rita, non faccio che piangere, era un bimbo adorabile. Si è addormentato a scuola stringendo a sé il peluche che amava il barbapapà verde. Poi la maestra Roberta, l'ho accompagnato al pulmino, voglio tenere per me quegli ultimi istanti. Lo porteremo per sempre nel cuore gioioso. Non piangeva mai. Avanti ancora, cambiamo decisamente argomento. Si parla in questo caso di lavori a Pescara. Partono i lavori in via Rapietra. Scatta il senso unico per 40 giorni. Dal 5 novembre al 15 dicembre si circola solo in direzione nord-sud nei tratti occupati dal cantiere. In vigore anche i diveti di sosta con le rimozioni forzate. Previste alcune deroghe solo per i residenti. In taglio medio proiettili di guerra in via Campotosto. Alcuni ordigni rinvenuti durante le operazioni di bonifica nel tratto dove sorgerà una pista ciclabile. I controlli dopo l'esposto dei cittadini. Musica troppo alta nei guai Tortuga, Ippobice e Pepito. Dopo i controlli a 12 stabilimenti della riviera tra Pescara e Montesivano, i carabinieri forestali hanno verificato nei tre locali il superamento dei decibel consentiti sia di giorno che di notte. Avanti ancora con i progetti per la città, la città di Pescara. L'università punta sull'ex cofa per realizzare nuove facoltà. Svelata la lettera con cui il rettore Caputi propone a Masci l'acquisizione dell'area sulla riviera sud. Vogliamo costruire un campus con i servizi per gli studenti. Così rilancieremo l'intera zona. E poi il centro-sinistra che interviene, appunto Masci blocchi la proposta. Appello dei consiglieri di opposizione di Pietrantonio dell'EPD pronti alla protesta per salvare l'ex cofa. Andiamo avanti. La festa di Halloween riempie le vie del centro. Gruppi di bimbi mascherati a caccia di caramelle con dolcetto scherzetto. Tanti curiosi anche agli stand di Cioccolandia in corso Umberto fino a domenica. Avanti ancora siamo sulla pagina di Montesimano con il riferimento comunque al progetto della nuova Pescara. La fusione dei tre comuni. Fidanza presidente della commissione per la nuova Pescara. Il capogruppo PD a Montesimano è stato eletto a sorpresa. A centrodestra diviso. Il capoluogo adriatico esce sconfitto. Il coordinatore di Fratelli d'Italia, Cordoma, accusa la Lega di incoerenza. Dice di essere contro il progetto per la nuova città ma all'atto della votazione ha sostenuto fidanza che è favorevole. Poi ancora sempre a Montesimano le spese per il Jova Beach infiammano. Il consiglio a Montesimano tiene ancora banco il mega concerto dello scorso settembre. L'opposizione poca trasparenza sui costi. Il sindaco non abbiamo speso un euro. E poi ancora a Montesimano. E dal cielo scenderà un tricolore di 500 metri. Lunedì per la giornata dell'unità nazionale. Montesimano affida ai paracadutisti una maxibanghiera. A Francavilla la cronaca in coma dopo i pugni. Migliora il ristoratore. Primi segnali di ripresa per Antonio Cicalini. Da una settimana in rianimazione il fratello Giuseppe. C'è nato un sorriso. Continuiamo a pregare. Ce la farà. Il tutto era nato appunto per una banale lite al semaforo. Andiamo avanti. Siamo in Val Pescara. Scafa, scuola bus. Ci pensa il ministero. Vicino a una soluzione. Il caso della piccola Giulia. Senza un mezzo adatto per la sua carrozzella. Ora le pagine di Chieti. Montagna. Il rilancio. Maielletta. Ecco 20 milioni per i nuovi impianti da sci. Nel 2020 il bando per collegare Passo Lanciano a Mamma Rosa. Con una seggiovia. L'assessore Febbo. I soldi ci sono. Ora si superi la litigiosità di alcuni operatori. Poi ancora andiamo avanti. Ecco qui. Siamo alla cronaca di nuovo. Falsi annunci per truffare i disoccupati. Scoperto un elato di identità. Si fa mandare documenti con la scusa di un'offerta di lavoro. Roma vuole aprire conti correnti falsi. La denuncia a Chieti. Poi ancora in taglio medio. Sempre a Chieti l'inchiesta sui 300 mila euro spariti dai Bancomat. Il ladro con cappello e guanti ripreso da due telecamere. In taglio basso. Cinghiali. Triennio con 540 incidenti. La ASL elenca le strade più colpite nel Chietino e emergenza nel Vastese. E ora siamo alle pagine di Teramo. La rabbia dei metalmeccanici ignorati e beffati dalla politica. Ieri appunto in scena la protesta delle tutte blu. FIOM, CGL, FIM, CISLE, WILM, WIL. Tornano a denunciare. In tutta la provincia sono a rischio 750 posti di lavoro. D'Ignazio, un flop l'area di crisi complessa. Esclude proprio le aziende che ne avevano più bisogno. E poi ancora mercoledì una giornata di studio per ricordare il rettore russi. Andiamo avanti. Sempre con le pagine di Teramo. Bus e i sindacati contro TUA. Scelte sbagliate per altri. I CGL e CISLE, WILM, bocciano la ristrutturazione dei servizi d'area decisa dall'azienda. Danneggiati studenti e pendolari per non ottenere alcun risparmio. Poi a Silvi Paese lavori sulle pavimentazioni e sulla fontana. Andiamo ora sulle pagine dell'Aquila. Ispezioni in discoteche, pub e ristoranti. Movida fuori legge. 8 denunce. Sfruttati 150 lavoratori in nero. Blizza da Vezzano e Tagliacozzo. Due indagati per le notti danzanti abusive in una struttura sportiva. Accertate violazioni sulla vendita di alcolici ai minorenni e sulle regole per il diritto d'autore. Controlli dopo la tragedia di Corinaldo. Sequestrato locale dove c'era il doppio dei clienti consentito. E poi ancora in basso l'Aquila Medici nel lutto Casciani. Oggi l'addio a Collemaggio. La Nao Assomed esprime cordoglio per la scomparsa del chirurgo. Andiamo a chiudere con quest'ultima pagina. Prima di dare la nina alla regia. Muore a 23 anni dopo 9 giorni di coma. Fatali le ferite riportate in un tamponamento. La giovane tornava dall'Eurociocolite di Perugia. Lutto a Carsoli e Pietrasecca. La vittima di questo incidente. La giovane Federica Ferrante. Morta a 23 anni. Poi in basso leggiamo Mala del Brenta. Boss libero dopo 25 anni. Pandolfo era in carcere a Sulmona. Trasferito a Vasto. Felice Magnero lo tradì e lui giurò vendetta. Ci fermiamo con la prima parte di mattino 6. Diamo la linea ora alle previsioni del tempo. Poi la pubblicità. E poi ci ritroviamo per leggere il messaggero alla città. Le pagine di sport e vedere altri servizi. Grazie a tutti.